I valori estetici dell'arte e i valori della giustizia quali fondamenti del vivere civile. Fino al 30 giugno all'Università Cattolica è possibile visitare il percorso Use as Stars, itinerario tra arte contemporanea e diritto a cura di Don Roberto Meyer del Collegio dei Docenti di Teologia. L'iniziativa promossa dal Dipartimento di Scienze Giuridiche comprende lavori di artisti di diverse generazioni. La mostra è accompagnata da un catalogo che è stato presentato nella Biblioteca di Giurisprudenza alla presenza del Vescovo Monsignor Gianni Ambrosio e del Sindaco Patrizia Barbieri. Regalare un'esperienza immaginifica in un mondo che può apparire solo ed esclusivamente tecnica, ma tecnica è una parola che viene dal greco e corrisponde ad arte, quindi in un certo qual modo arte e diritto si possono riunire nella parola tecnica, nella strumentario, come ci ha insegnato Giorgio Milani in uno strumentario, nel Poetario Blu, che è il segno della nostra facoltà e del mondo del diritto qui a Piacenza. L'itinerario promosso con l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio si è concluso al Museo della Cattedrale con gli interventi di Manuel Ferrari e Carlo Franco sull'esposizione Custos, che significa custodi, ed è una narrazione che si dipana attraverso i lavori di numerosi artisti che si interrogano sull'importanza di alcuni aspetti dell'esistenza, alcuni più legati al campo materiale, altri più riguardanti la sfera spirituale.